salutiamo tutti i clienti di escamoshop in questo video vi presento un auricolare hm12 originale samsung multipoint ecco gli auricolari bluetooth come tutti sappiamo sono universali ecco si agganciano e si collegano a tutti i bluetooth a qualsiasi dispositivo a qualsiasi cellulare purché abbia la connessione bluetooth ecco qui lo vedete nel suo design molto carino dicevamo multipoint multipoint vuol dire in pratica che l'auricolare riesce a collegarsi a due cellulari contemporaneamente è possibile collegare questi due cellulari vediamo all'interno della confezione parliamo ecco di un prodotto originale samsung vediamo all'interno della confezione come si presenta allora vediamo che aprendo la confezione ecco qui all'interno della confezione ci viene dato il libretto delle istruzioni per il corretto montaggio del prodotto il libretto delle istruzioni comprende più lingue tra cui anche l'italiano ed è utile anche per quanto riguarda poi la garanzia se eventualmente il prodotto dovesse dare problemi parliamo di un prodotto originale lo sto prendo io in questo momento quindi ecco non dovreste avere problemi nel modo più assoluto bene vediamo che all'interno del come dire all'interno della confezione ci viene dato l'alimentatore da rete eccolo qui ci viene dato l'alimentatore da rete per quanto riguarda ecco il ricaricamento dell'auricolare eccolo qui alimentatore da rete con un cavo lungo circa un metro e mezzo e con presa micro usb samsung eccola qui la vedete questa presetta che in pratica è l'aggancio che ha l'auricolare bene fatto vedere questo abbiamo all'interno sempre e ci viene dato un come dire degli agganci degli agganci dei gancetti ecco di ricambio ecco se eventualmente quello lì che è montato vicino al cellulare non dovesse andare bene avete questi qui di ricambio che magari sicuramente si adattano al vostro orecchio insieme a questi ci viene dato anche un come dire una staffa per l'orecchio di ricambio se eventualmente questa qui si dovesse spezzare perché parliamo di materiale in plastica quindi effettivamente magari ecco potrebbero potrebbe spezzarsi bene la samsung ha pensato di darvene una in una in dotazione ovviamente se non sbaglio di uguale misura a quella che già vi viene data vicino all'auricolare l'auricolare eccolo qui lo vedete molto molto piccolino ecco qui le sue misure sono di circa un quattro centimetri per un centimetro e mezzo di un tre quattro centimetri per un centimetro e mezzo vedete questa questo design effettivamente che tende man mano che si sale tende ad allargarsi ma effettivamente molto contenuto lo vedete eccolo qui il vostro auricolare effettivamente un prodotto molto molto professionale molto piccolo ed ha una capacità di come dire di comunicazione col vostro telefono di circa 15 metri con entrambi effettivamente perché se installiamo abbiamo abbiamo detto già che se installiamo due e poi c'è la possibilità di installare due telefoni contemporaneamente abbiamo i comandi qui eccolo qui in questo caso se adesso è posto sul sullo off se andiamo in pratica ad accenderlo se andiamo ad accenderlo il telefono ecco qui inizia a devanare questa luce blu che vuol dire che sta cercando magari ecco il bluetooth dell'auricolare sta cercando un bluetooth che effettivamente in questo momento non c'è bene il che dire il l'auricolare è perfettamente come dire è originale samsung ripetiamo hm 1200 è molto carino ed effettivamente molto molto professionale si sente anche effettivamente molto bene qui abbiamo qui posto qui sotto sulla parte sottostante ecco del dell'auricolare abbiamo anche il microfono ecco questo puntino piccolino è il microfono bene io con questo concluso il video ringrazio tutti per avermi presto d'ascolto e video appuntamento alla prossima